lunedì 23 agosto il suggestivo pianoro di ciò l'andrea san giovanni appiro ospiterà il magico concerto all'alba il tenore fabio andreotti e il soprano maria terracciano si esibiranno in il racconto delle melodie immortali con il maestro leonardo quadrini al piano e la voce narrante di tonino bernardelli il risveglio del giorno e della mente accompagnato dalla più bella musica classica e dal respiro della natura regalerà ognuno un sentimento di gioia indescrivibile e che mai farà dimenticare il paesaggio mozzafiato che vi si aprirà di fronte si inizierà alle ore 5 si consiglia di arrivare prima e parcheggiare l'auto fuori dall'area del pianoro le note del concerto all'alba spiega pasquale sorrentino vice sindaco del comune di san giovanni appiro ci conducono alla notte stellata in ricordo di simon gutier il pianoro di ciolandrea conferma di essere un luogo di riconciliazione con la propria anima nel ricordo di una tragedia e nella contemplazione di un paesaggio unico la grande bellezza di san giovanni appiro venerdì 27 agosto alle ore 21 e 30 il pianoro di ciolandrea accompagnerà lo spettacolo astronomico pur simon grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti